ciao a tutti e bentornati dopo qualche tempo al nostro bootcamp sull'impaginazione tesina oggi come vedete siamo al quarto giorno dove si parlerà di presentazione al pubblico ne parlerò in senso generale mi soffermerò in particolar modo sulla creazione di slide efficaci andiamo a vedere il programma di giornata oltre a questo video ci saranno altri quattro video tra quattro parti il primo dei quali è dedicato agli errori da evitare durante la creazione di slide la seconda parte invece vedrà come protagonista le cinque regole d'oro per creare delle slide efficaci la terza parte invece sarà un po più pratica sfrutteremo canva che è un software online gratuito per prendere ispirazione e per creare delle slide accattivanti vi farò vedere in particolar modo come ho creato le slide di questa presentazione quarta parte riguarderà invece gli ultimi consigli in vista o anche durante la presentazione consigli soprattutto dal punto di vista tecnico e poi mi lascio una quinta parte dove posso aggiungere in futuro non ora alcuni video che ritengo opportuni siano in questa sezione li caricherò man mano una cosina cominciamo con una premessa importante come dice la parola stessa la presentazione è è sempre stata e sempre sarà una sola cosa tu che presenti le slide sono solo un aiuto visuale se invece cerchi un mezzo a cui delegare la divulgazione del tuo argomento mentre tu te ne stai disparte in realtà la scelta giusta è un'altra la mela in questo caso è il testo scritto e allora ti consiglio di riguardarti i filmati precedenti le slide per sé servono solo a orientare o dirigere lo sguardo e l'attenzione del pubblico verso di te e verso il tuo argomento altra cosina quando siete in presenza le persone si accolgono subito se non padroneggiate bene un argomento di cui state parlando per cui due consigli primo è quello di prepararsi in maniera approfondita su quello che dovete dire e nel caso non ci riuscite non ci riusciate cercate di eliminare quella parte dalla vostra presentazione un consiglio organizzativo partite innanzitutto dallo studio dell'argomento di cui dovete parlare secondo preparate e realizzate schemi scritti o fotografie immagini e se avete fatto attesina questo materiale l'avete già poi successivamente preparatevi uno schema di quello che sarà la vostra presentazione e infine preparate le slide non partite dall'ultimo punto assolutamente partiamo ora a definire alcuni momenti chiavi all'interno della presentazione la presentazione dovete vedere un po come lo sviluppo di un racconto sono simili a quelli che avevamo messo come punti chiave all'interno delle tesine il primo punto è la premessa perché siete lì e cosa andrete a fare o cosa andate a far vedere la seconda parte è il contesto in cui si svilupperà tutto il vostro argomento la terza parte invece è proprio lo sviluppo dell'argomento che di solito è la parte più lunga e poi dolce sin fundus la conclusione la conclusione è l'ultima parte ma non la meno importante anzi è la parte in cui tirerete le somme della parte in cui di cui il pubblico e la commissione si ricorderà di più quindi consiglione cercate di allenarvi a casa sui tempi in modo di non sforare e di tagliare di saltare la conclusione nel caso tagliate qualcosa nella fase di sviluppo se invece siete davanti a una platea e spesso sono le domande della platea che allungano i tempi dato un tempo definito se siete davanti a una commissione chiedete gentilmente ad essa di poter concludere prima la presentazione e poi sarete a disposizione per tutte le domande non mi resta altro quindi che salutarvi dopo questa introduzione alle presentazioni del pubblico ci vediamo nei prossimi filmati ciao ciao